Calogio Rovella in esposizione presso il Circolo di Cultura, l'arte del sacro e il sacro nell'arte, la sua prima personale. Di cosa si tratta? Per la prima volta ho voluto far conoscere agli altri quelli che sono i miei lavori. Io sono un'autodidatta, ho cercato nel tempo di affinare le mie tecniche e quindi gli amici, i parenti mi hanno detto perché non farlo vedere anche agli altri. Ho voluto fare questo regalo a me stesso, non agli altri, a me stesso. Un lavoro comunque importante quello che hai realizzato nel corso degli anni. Che cosa c'è all'interno di questa mostra? Qual è il filo conduttore? Il filo conduttore è un sentimento che io ho nell'anima, che è quello della riscoperta della parola di Gesù. Io ho voluto rappresentare alcuni momenti della sua vita, dai primi miracoli fino alla crocifissione e poi utilizzando tecniche già utilizzate da altri pittori. Infatti non c'è mai una stessa tecnica in ogni opera, ma ogni opera ha una tecnica che io ho ripreso dal pittore originario. Cultore del bello, Calogero Bella, da anni si dedica all'arte nelle sue varie forme, con estrema dedizione e passione. I lavori in esposizione al Circolo di Cultura sono sicuramente il risultato di questa continua ricerca del bello. È frutto di tanto lavoro, di tanto studio soprattutto. Ogni pennellata di un grande maestro per me è stato frutto di studio, di apprendimento. Non sui libri, ma proprio sulle opere direttamente. Ho cercato di migliorarmi sempre. La mostra resta in esposizione fino al 2 settembre. Perché venire a visitarla? Venire a visitarla non tanto, perché magari si può anche essere un non credente, quindi il sacro ben poco potrebbe interessare. Però il conoscere, perché è anche uno scopo didattico secondo me questa mostra, il far conoscere alcune opere d'arti che sono presenti a Sciacca, che magari non si è invogliati a voler visitare. Per esempio ho realizzato un crocifisso che è una copia di un antichissimo crocifisso che si trova nella nostra chiesetta di San Nicolò la Latina, che magari in tanti non conoscono, però venendo qua possono avere la curiosità di andare a vedere l'originale, ecco. Grazie a tutti.